Fino alla durata dell'emergenza Covid-19, se hai almeno 75 anni e riscuoti la pensione in contanti, se non sei titolare di libretto o contocorrente postale e non hai familiari vicino a te per garantire il prelievo, puoi delegare i carabinieri che d'intesa con poste italiane si occuperanno del ritiro della consegna della pensione direttamente a casa tua. Chiama la stazione dei carabinieri più vicina o il numero verde 855 66 70 e chiedi come sottoscrivere la delega.